Buongiorno a tutti, oggi è per me un piacere fare gli onori di casa qui per la presentazione della funzione Activism della piattaforma Rousseau. Diciamo subito che con l'avvio di questa funzione la piattaforma Rousseau è integralmente operativa, cioè la piattaforma Rousseau nel corso di questi mesi piano piano ha avviato le varie funzioni che voi conoscete perché vi sono state già presentate e oggi mancava quest'ultimo tassello di questo mosaico che rappresenta un progetto ambizioso per noi e fondamentale e con questo tassello è integralmente operativa. Voglio ricordare a tutti l'importanza della piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle ma non solo per il Movimento 5 Stelle, anche per i cittadini perché la piattaforma Rousseau rappresenta lo strumento con cui il Movimento 5 Stelle fa politica insieme ai cittadini con un unico obiettivo e l'obiettivo è di permettere ai cittadini di partecipare alla vita di questo paese. Sapete che tramite la piattaforma Rousseau i cittadini possono votare i candidati portavoce, possono partecipare alla scrittura delle proposte di legge, possono insomma partecipare attivamente alla vita politica e sociale di questo paese. Io sono responsabile per quanto riguarda la piattaforma Rousseau dello scudo della rete, altro tassello fondamentale, ricordo sempre con grande emozione quando Gianroberto Casaleggio mi propose di portare avanti quella funzione che come voi tutti sapete dà la possibilità di tutelare legalmente, di dare assistenza legale ai cittadini permettendo un incontro con avvocati che a condizioni estremamente agevolate stiano vicino a quei cittadini. Quindi si crea anche un sistema virtuoso in cui i professionisti e i cittadini si incontrano per tutelare i diritti dei cittadini stessi. Detto questo, come vi verrà spiegato più avanti a Kinter, verrà dopo di me, ecco la funzione activism fornisce una fotografia meravigliosa del passato del Movimento 5 Stelle ma anche del futuro rappresenta una foto proprio della memoria del Movimento 5 Stelle ma nello stesso tempo ricordandoci che è sempre importante portare avanti nuove iniziative comprese quelle parlamentari che verranno condivise con i nostri iscritti e se allora parliamo sia di iniziative passate sia di iniziative future io dico che non poteva esserci scelta migliore come responsabile di Paola Taverna ed è per questo che gli lascio molto volentieri la parola. Grazie. Buongiorno, grazie. Non vi nego un po' di emozione perché questa è l'ultima funzione del nostro sistema operativo Russo, è una funzione sulla quale abbiamo lavorato molto, è una funzione che ha voluto fortemente Gian Roberto che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di immaginare con lui come avremmo meglio portato a conoscenza di tutte le persone che cos'era il Movimento 5 Stelle, cosa è in questo momento e che cosa spera di diventare per tutti i cittadini. Quando l'abbiamo costruita abbiamo fatto veramente un tuffo nel passato, tante volte mi sono resa conto anche dalle domande che alcuni di voi ci fanno che non è chiaro quanto sia stato importante e profondo il percorso che hanno fatto tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, tutti coloro che sono entrati nelle istituzioni e coloro che ancora partecipano attivamente a qualunque iniziativa che fa il Movimento 5 Stelle dal 2009. Quindi parliamo di nove anni di storia, parliamo di nove anni di eventi, di momenti, di condivisioni che hanno cambiato volenti o nolenti la faccia della politica italiana e che hanno permesso finalmente ai cittadini di riappropriarsi della possibilità di essere parte attiva della costruzione politica di un Paese. In questa funzione che è insieme a Call to Action l'unica visibile a tutti senza neanche bisogno di iscrizione. Io quando insieme a Davide Casaleggio si è immaginata di poter donare questo sistema operativo al Movimento 5 Stelle, all'Associazione e a tutti i cittadini si è immaginato veramente di fare qualcosa che non appartenesse a un tempo preciso, non appartiene ad oggi, appartiene a qualcosa che è nato nove anni fa, qualcosa che noi desideriamo vada avanti e sia a disposizione di chiunque. Qui potrete vedere quella che è stata la nostra storia, qui potrete trovare tutte quelle che sono le nuove iniziative del Movimento 5 Stelle, ci saranno due sezioni separate, memoria e futuro e nel futuro ovviamente ci sono anche tutte le nostre attività, a partire dalla campagna elettorale, a partire dalle agorà, i grandi raduni del Movimento 5 Stelle, Italia 5 Stelle, Villaggio Russo, è l'insieme di tutto ciò che noi vogliamo che le persone si sentano padrone della nostra storia, della loro storia e che possa essere veramente il futuro. Io la cosa che più che a voi voglio che sappiano tutti i cittadini su questa funzione potrete trovare anche tutto il materiale informativo legato al Movimento 5 Stelle, questo per consentire che i banchetti, le agorà siano partecipate, che le persone che le fanno sentano veramente di essere parte, integrante di un momento che appartiene a loro come appartiene a noi. Sulla parte tecnica io lascio la parola a Enrica Sabatini che è la fautrice, la madrina di tutta questa avventura, ci ha creduto insieme a Davide e insieme a Gianroberto e siamo veramente arrivati alla conclusione di un percorso che è stato meraviglioso. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Entriamo nel merito del funzionamento dell'applicazione e quindi dell'aspetto operativo e come gli utenti potranno interagire con la piattaforma. L'applicazione dà quindi la possibilità di ricordare tutti gli eventi che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti, da gli Udei fino al recente Villaggio Russo, eventi che costituiscono la memoria collettiva del Movimento 5 Stelle e attraverso i quali abbiamo portato avanti in questi anni tantissime battaglie. Consente anche la possibilità di scoprire tutte le nuove iniziative in essere quindi correnti e future con delle modalità particolari che consentiranno agli utenti di partecipare in maniera più attiva ed efficace alle iniziative. E consentirà anche la possibilità di condividere queste iniziative grazie, come diceva appunto Paola Taverna, alla possibilità di scaricare dei materiali informativi e quindi di utilizzarli all'interno delle iniziative. La sezione memoria è la sezione appunto che raccoglie tutti quelli che sono stati gli eventi del Movimento 5 Stelle. Abbiamo individuato una serie di categorie, quindi abbiamo la categoria per fare un esempio, relativa alle origini, quindi dalla nascita del blog all'inizio dell'utilizzo dei meetup. Vi sono anche la categoria relativa nelle istituzioni, cioè tutte quelle battaglie che i nostri portavoce hanno portato avanti non solo in Parlamento ma anche nelle regioni ma anche nei comuni. Ci sono quindi tutti anche i raduni nazionali, gli incontri che noi abbiamo fatto in questi anni e che hanno consentito di creare questa comunità che sta crescendo sempre di più e che sempre di più evolve verso un desiderio di formazione e di partecipazione, ma ne parleremo poi in seguito. Quindi in questa sezione tutti gli utenti potranno ritrovare gli eventi che hanno caratterizzato la storia del Movimento 5 Stelle e quindi anche ricordare magari delle interviste, dei video, perché è importante, proprio come si diceva, come diceva appunto Nice in una frase che piaceva anche molto a Gianroberto Casaleggio, era inserita appunto nel suo libro, il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Noi oggi siamo quello che in qualche modo tutto quello che noi abbiamo fatto rappresenta un bagaglio che noi portiamo con noi e che condiziona anche il futuro e le scelte che faremo. Nella sezione invece iniziative correnti e future tutti gli utenti potranno individuare gli eventi e le attività che sono in corso su tutto il territorio nazionale, quindi potranno grazie a dei menu che sono stati creati, dei filtri che sono inseriti appunto sulla piattaforma, potranno ad esempio individuare quali eventi locali sono in essere, quali eventi nazionali e verranno e sono suddivise anche in diverse categorie, quindi potranno scoprire per esempio quali agoraconi portavoce saranno presenti sul loro territorio di riferimento, ma anche i gazebo, ma anche i raduni nazionali, ma anche le attività di formazione che noi andremo sempre più ad intensificare. Qui mi ricollego al villaggio Russo che è stato già nominato e che a Pescara ha portato a un risultato particolare, particolarmente entusiasmante. Il villaggio Russo era già presente in Italia 5 Stelle e la prima edizione contò forse un centinaio di persone, aveva uno spazio di forse 30 metri quadri, la seconda edizione poi invece raccolse centinaia di persone e a Pescara in tre giorni invece abbiamo raggiunto 5.000 presenze. Perché voglio sottolinearlo? Perché l'attività di formazione sulla quale stiamo puntando avrà sempre più, avrà uno spazio sempre più importante e la funzione attivismo servirà anche a comunicare queste iniziative, a capillarizzare queste iniziative per consentire una formazione permanente a tutti quei cittadini che vogliano entrare nelle istituzioni, nei comuni, nelle regioni o in Parlamento. Successivamente gli utenti possono anche entrare in ogni singolo evento e scaricare i materiali. Questo è fondamentale perché? Perché ogni iniziativa ovviamente sarà corredata da materiali integrativi, di supporto che consentiranno quindi a tutti non solo di potersi informare ma di informare come appunto anticipava Paola sia per la campagna elettorale ma in generale per tutte le iniziative e gli eventi, anche i raduni tematici che noi porteremo avanti o come le già menzionate attività formative. Questo strumento quindi ci consentirà di avere una mappatura dettagliata, esaustiva ed in tempo reale di tutti gli eventi che il Movimento 5 Stelle organizza. Quindi potremo vedere in ogni giorno quali eventi, quali, quanti e di che tipologia di eventi sono appunto portati avanti in una determinata regione, in una città o su tutto il territorio nazionale. Ci consentirà in qualche modo di valorizzare tutta quell'attività che noi portiamo avanti da tantissimi anni perché abbiamo iniziative locali come un semplice banchetto in un piccolo comune fino a raduni nazionali. Con questa applicazione finalmente tutta questa attività fatta da simpatizzanti, da attivisti e dai portavoce nelle istituzioni avrà finalmente il giusto riconoscimento, la giusta visibilità per consentire a tutti quelli che vorranno partecipare, perché sarà aperta a tutti, di sapere dove siamo, cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto e soprattutto cosa abbiamo intenzione di fare. Ora io dopo aver sintetizzato l'aspetto più tecnico, più operativo della piattaforma lascio la parola a Davide Casaleggio per una conclusione. Bene, sono molto contento che oggi concludiamo un primo percorso di Rousseau e con questa undicesima funzione abbiamo completato quello che era un progetto iniziale progettato due anni fa ma iniziato anche molti anni prima e con questa funzione riusciamo a chiudere un primo cerchio perché molti di voi vedono Rousseau nel momento del voto ma in realtà Rousseau è molto più del singolo voto per le parlamentarie o per altre attività che facciamo su Rousseau. Ma è soprattutto la partecipazione e il motivo primo di Rousseau è la partecipazione, la partecipazione su activism, sulla call to action che ha avuto già molta partecipazione negli ultimi mesi e tra cui l'evento per piantare gli alberi in oltre 40 città in giro per l'Italia e diverse decine di migliaia di alberi piantati oppure a inizio anno quando abbiamo organizzato in molte città i giocattoli in movimento dove era possibile scambiare giocattoli tra bambini nelle varie città. Questo è uno strumento che Rousseau vuole essere soprattutto uno strumento di partecipazione e con questo primo percorso che abbiamo portato a termine oggi inizieremo a costruire sia sulle funzioni che abbiamo già in piedi e quindi tutte le funzioni oggi hanno un piano di sviluppo che spero riusciremo anche a presentare nei prossimi mesi per il 2018 e soprattutto anche nuove funzioni che verranno rilasciate e sono già in progettazione oggi per i prossimi mesi. Su questo io vi ringrazio di essere qui oggi e spero parteciperete tutti il risurso. Grazie. Salve. Io ho due domande bravi per Casaleggio. Una riguarda l'hacker che è stato individuato qualche giorno fa, siccome è stato definito l'hacker etico, quello buono, volevo sapere anche alla luce della petizione online che è stata promossa se il movimento ha intenzione di ritirare la denuncia. La seconda domanda invece riguarda nello specifico Rousseau e riguarda il garante della privacy che a dicembre ci ha fatto capire che i voti possono essere ricondotti a chi li ha espressi e quindi volevo capire se sono stati presi dei provvedimenti o se si intende prendere dei provvedimenti appunto per garantire la privacy degli attivisti. Allora, rispondo a entrambe. Sulla prima, noi lo scorso anno abbiamo subito un attacco da più persone, abbiamo fatto una denuncia contro i gnoti, so che la polizia postale e anche Gnaipic stanno lavorando tuttora a queste queste indagini. Ho avuto notizie in realtà dalla stampa su un'identificazione di una persona e sono contento che queste indagini stiano procedendo. Ovviamente non è nostra intenzione attaccare persone che abbiano fatto cose senza dolo, ma su questo io non ho informazioni per decidere o per capire ad oggi questa cosa. Sulla seconda, il garante della privacy ha condotto un'indagine anche molto estensiva su tutta la piattaforma Rousseau e a mio parere non mi sembra abbia trovato fatti problematici. Sicuramente il tema che sollevava è un tema legato alla sicurezza che è stato introdotto lo scorso agosto e quello a cui si riferiva era l'utilizzo del numero di cellulare per accedere a Rousseau. Il numero di cellulare oggi è essenziale per poter accedere a Rousseau e anche per quindi votare e quindi c'è questa potenzialità che è stata identificata dal garante. In realtà noi stiamo già lavorando su un sistema di voto che si baserà sulla blockchain che supererà anche questa potenziale eventualità che ha identificato il garante. Sono previste altre novità su Rousseau, mi riferisco, intendete per esempio pubblicare il bilancio di Rousseau in maniera articolata con una rendicontazione simile a quella per esempio a cui sono obbligati i parlamentari che sono quelli che poi finanziano Rousseau e quindi c'è questo paradosso per cui i parlamentari che devono essere molto precisi nel rendicontare i loro soldi gli danno a un'entità che è molto meno trasparente. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è il garante della privacy vi aveva chiesto, anzi il garante della privacy ha chiesto di modificare le password e di stare attenti, di cercare di fare delle password che fossero diciamo meno facili da craccare. Ora l'hacker a cui faceva riferimento la collega poco fa ha rivelato moltissimi dati che la riguardano tra cui la sua password personale di accesso a Rousseau. Intendete in qualche modo ottemperare alle richieste del garante? Lei aveva già risposto in passato a questa domanda dicendo di sì però sembrerebbe di no perché la password è nota ormai era davidavi diciamo piuttosto facile. Ecco ho finito. Allora giusto per la prima domanda era sul bilancio giusto? Il bilancio è pubblicato per ovviamente per l'anno 2016 ed è disponibile online con un rendiconto ora se vuole un rendiconto ancora più dettagliato magari potremmo anche farlo più dettagliato ma comunque c'è un bilancio pubblico dell'associazione che è stato pubblicato online e tra l'altro è stato anche inviato al Parlamento con tutti gli allegati del caso nonostante non fossimo tenuti a farlo. Questo non mi risulta sia fatto da nessun'altra associazione o fondazione o altro supporto che hanno altri partiti per cui penso che questo sia una dimostrazione di quanto siamo trasparenti sulla gestione anche di Rousseau. Per il 2017 appena chiuderemo i conti compatibilmente probabilmente nei prossimi settimane o mesi pubblicheremo anche per il 2017 i conti dello scorso anno. Per quanto riguarda i dati le richieste del garante alcune erano richieste effettive alcuni erano consigli in realtà li abbiamo accolti entrambi abbiamo ci sono alcune cose su cui sono sono in sviluppo in questi giorni in realtà ancora però la maggior parte delle richieste e dei consigli ottenuti dal garante sono state ottemperate o comunque verranno ottemperate a breve. Sì buongiorno. Sarebbe interessante sentire una vostra riflessione su alcuni numeri parlamentarie 40.000 se non sbaglio hanno partecipato 40.000 iscritti a Rousseau hanno partecipato alla votazione se non sbaglio gli iscritti totali a Rousseau sono ampiamente superiori ai 100.000. Oggi il Movimento 5 Stelle ha però un bacino di potenziali elettori di 9-10 milioni di italiani. Allora la 40.000 partecipino a un sistema di elezione come possono essere le parlamentari o se pensate che la rappresentatività vada estesa e quindi i 40.000 votanti debbano necessariamente aumentare per rendere più rappresentativi appunto i numeri che vengono fuori da un sistema di elezione democratica come le parlamentarie. Sicuramente il nostro obiettivo è di estendere più possibile la partecipazione su Rousseau e su questo ci siamo anche dati degli obiettivi per il 2018 avendo adesso completato la piattaforma almeno nella sua prima versione progettata il nostro obiettivo è sicuramente estendere e fare in modo che più persone possibile possano partecipare a Rousseau. Quindi questo è sicuramente il nostro obiettivo. Quando lei mi dice sono pochi sono tanti sicuramente vorrei fossero di più ma sicuramente sono molti di più dei 3-4 forse che hanno deciso le liste degli altri partiti. Quindi mi sembra che sia molto più rappresentativo e partecipato al Movimento 5 Stelle che qualunque c'è altra formazione politica in Italia. Io volevo fare una domanda. Sta crescendo diciamo il ruolo di Rousseau dentro il Movimento e lei ha un ruolo in Rousseau e un ruolo nella casaleggio associati. Secondo lei c'è un problema se non di conflitto di interessi quanto meno di opportunità ed è pensabile che cambi l'assetto societario in futuro magari della casaleggio associati. Io ho un ruolo in casaleggio associati in quanto ci lavoro e ho un ruolo in Rousseau in quanto presto la mia attività come volontario nel senso che non ottengo alcuna retribuzione per fare questa attività e cerco di dare il mio supporto con le mie competenze su Rousseau per cui veramente non vedo dove ci sia questo conflitto.